A Paola Barale, che il suo principe l'ha già trovato, si chiama Paola Barale, firmato la Volpe Ludovica. Ah però, buongiorno MTV, benvenuta a casa. E invece questo è un tappeto berbero della fine dell'Ottocento, dove ci mangiavano. Questa è la mia camera da letto, che è ancora da finire però. Ti fa il mia cena con me? Detto questo MTV ti voglio far vedere un quadro a cui io tengo tantissimo, tant'è vero che è proprio qua. E questo invece l'ha fatto un mio amico, quando decidi di andare sulla luna, che ti metti questo? A Paola Barale, che il suo principe l'ha già trovato, si chiama Paola Barale, firmato la Volpe Ludovica.